Cristina Chiabotto, dopo aver annunciato di essere incinta, è stata sommersa da una malanga di affetti e auguri. Le parole più belle per l'ex Miss Italia 34enne al sesto mese di gravidanza sono arrivate però dal marito Marco Roscio, con una dolcissima dedica social sotto una foto di coppia. Quando guardo questa foto riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata e già chi l'avrebbe mai detto in quell'istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante. Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante, ma dicono tutti che sarà estremamente bello. Non vedo l'ora di poter dire la mia consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso.